ebbene questo video per dirvi che lo abbiamo messo in vendita dopo le segnalazioni di alcuni cittadini di via piano d'ardine ci siamo recati sul posto e abbiamo trovato davanti ai nostri occhi questo ex lavatoio comunale oramai dismesso abbandonato dal terremoto del 1980 insieme all'ufficio patrimonio del comune abbiamo deciso di svenderlo di regalarlo alla modica cifra di 10.000 euro perché troppa la spesa eventualmente per riqualificare un qualcosa che comunque nessuno verrebbe a visitare anche perché trovandosi a piano d'ardine ma chi ci viene voglio dire piano d'ardine c'è munnezza ci sono prostitute e c'è l'amianto ci sono le aziende e quindi quindi chi ci verrebbe lì giù a visitare una struttura del genere e quindi ripeto abbiamo deciso di venderla quindi al futuro acquirente auguro tutto il bene di questo mondo auguri